ok grazie intanto grazie grazie a tutti per per essere qui grazie a crafter che gli amici di crafter che mi stanno ospitando io sono Antonello sono oltre a essere un crafter di lungo corso sono anche un lavoratore IT di lungo corso più lungo corso ancora e diciamo che nel corso di questi anni facendo questo mestiere ho dovuto affrontare come penso tutti voi la sfida di imparare qualcosa di insomma anche di concetti complicati quindi cose complesse e questo è stato il primo il primo risultato gli altri risultati quello di avere avuto una specie di formazione professionale di quello di chiedermi il perché delle cose come funziona questa cosa a basso livello si può si può migliorare come si come si fa a farla funzionare meglio ed eventualmente appunto a migliorarla e a un certo punto questa cosa l'ho provata ad usare proprio sul concetto stesso di apprendimento quindi su questa attività e mi sono chiesto ma effettivamente imparare è uno skill cioè si può è un qualcosa che si può si può si può migliorare e la risposta è la risposta che mi sono dato è sì e stasera vorrei vorrei provare a condividere con voi le conclusioni a cui sono a cui sono giunto e sarà una una chiacchierata insomma su parecchi aspetti sostanzialmente però niente di lungo e ho preparato pochissime slide anche perché le slide non sono proprio una cosa che mi entusiasmano e il concetto è quello di di presentarvi questa questa panoramica insomma di provare a convincere di questa di questa cosa effettivamente imparare è uno può essere considerato uno skill è uno skill e anzi a me piace pensare che sia un po lo skill no piace citare citando un po il signore degli anelli no one skill to rule them all perché effettivamente una volta che si si prende un po di consapevolezza con questo tipo di 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 approccio è possibile poi imparare quasi qualunque cosa insomma con un vantaggio non banale proprio perché ci si approccia in una maniera più strutturata rispetto semplicemente a dire ok devo imparare questa cosa e la e parto senza avere una vuol dire una consapevolezza di quello di quello che si sta facendo e quindi importante non vi preoccupate se ci sono tanti concetti perché insomma vedere faremo un po una panoramica come dicevo abbastanza su vari vari aspetti però il concetto è su quello si può si può sempre poi approfondire come ho fatto io e la cosa importante è quella di insomma di vedere la big picture insomma e quindi questo è il mio obiettivo e spero di di riuscire appunto a trasmettere partirei partiamo da da una slide ovviamente e questa partiamo da questa frase che mi piace tantissimo di di gandhi già sulla prima la prima parte ci dovrebbe da parlare parecchio ma vabbè concentriamoci sulla sulla seconda e quindi l'imparare la spinta imparare dovrebbe essere qualcosa che ci diciamo ci accompagna sempre e io ho imparato a usare anche un po come retrospettive nel senso che come sanity check nel senso che in detrospettiva se penso a dei momenti della mia vita insomma non particolarmente brillanti la 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 volontà la voglia la la di imparare qualcosa di nuovo non era proprio ai massimi ai massimi storici e e questo mi mi ha fatto capire proprio come ci sia qualcosa che non va insomma sostanzialmente quando questa 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 si perde questa pulsione a imparare però al di là di questo noi impariamo comunque più o meno tutta la vita sostanzialmente possiamo ipotizzare diciamo catalogare in tre fasi di apprendimento la fase una fase prescolare che è quella in cui sostanzialmente da piccoli impariamo a camminare insomma a parlare ed è una fase quasi magica e nel senso che avviene tutto per per imitazione sostanzialmente e tra l'altro è una cosa una cosa curiosa che è anche una fase che se ci pensate bene non non prevede il fallimento no pensate a un bimbo che immagina sta cosa del camminare proprio non fa per me credo che continuano a gattonare per 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 tutta la vita non succede no e questo è già di per sé interessante poi abbiamo una fase scolare in cui sostanzialmente abbiamo un ciclo di vita di un ciclo su un ciclo di studi più o meno lungo impariamo cose che impariamo cose sempre più più sofisticate insomma che ci permettono poi di avere anche una professionalità e poi abbiamo diciamo finiamo il ciclo di studi entriamo nella vita reale e impariamo cose sia lavorativamente per insomma per necessità che per che per diletto quindi sostanzialmente è mi sembra piuttosto corretto dire che al di là di pause varie per motivi personali eccetera però impariamo impariamo tutta la vita sostanzialmente e la cosa un po curiosa è che qual è che impariamo ad imparare e io ho scoperto di di recente un termine che sinceramente non conoscevo ora non so voi se avete messo a parlare del termine matetica la matetica ho scoperto è la scienza d'apprendimento e quindi già è solo un po' strano no il fatto che facciamo una cosa tutta la vita ma almeno il sottoscritto non è la consapevole di questa di presidenza di questa scienza perché sostanzialmente noi conosciamo la la didattica che è un po la parte complementare in cui sostanzialmente è l'aspetto legato è legato all'insegnamento però è anche vero che possiamo avere le università migliori possiamo frequentare i corsi migliori fare avere insegnanti migliori del mondo però poi c'è sempre una fase in cui abbiamo del materiale delle cose da da apprendere da da fare nostre e quindi siamo un po' diciamo non abbiamo non abbiamo dei riferimenti e quindi dobbiamo fare un po un po da soli facendo training of a job che è un po quello che che ho fatto io e adesso vi racconto un po la mia esperienza diciamo in questi in questi ultimi anni ho approcciato diverse 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 discipline queste sono quelle più rilevanti insomma comportano comunque decino centinaia di ora alcune forse anche di più e e ovviamente come andrata in formazione professionale lo ho insegnato di clusterizzare no per trovare insomma una un pattern o qualcosa che le potesse le potesse catalogare e quindi vedete in arancione diciamo quelle più cinetico sportive sostanzialmente in in bianco quelle tecnico pratiche e tra l'altro se se vedete barbecue e ovviamente uno può pensare ma cosa c'è di di teorico nel barbecue è in realtà se si se si approfondisce un po al di là dell'aspetto di cucinare ci sono elementi ad esempio di termodinamica quindi come il calore ad esempio in un kettle si distribuisce durante la cottura piuttosto che di chimica quindi come avvengono certe reazioni tra le proteine o i zuccheri della carne alle alte temperature quindi provocano un certo tipo di cottura piuttosto che un altro e o danno un certo tipo di aspetto alla carne l'aspetto zootecnico zoologico quindi sostanzialmente di itali la carne e così via e magari qualcuno si può chiedere ma questa cosa serve per fare una buona grigliata in realtà la risposta è dipende dipende da quelli che sono il contesto di apprendimento cioè quali sono gli obiettivi che si vuole raggiungere questo lo vediamo lo vediamo lo vediamo tra poco il terzo cluster è legato più a diciamo disciplina in cui c'è una forte dose di espressività quindi di creatività e il quarto che definisco di network quindi un lavoro un po su se stessi su come migliorare e ovviamente fa parte anche questa questa cosa del metallo che adesso andiamo un po ad esplorare ovviamente queste sono discipline tra loro piuttosto diverse nei vari cluster e hanno sono possono essere esplose in tante tanti skill tanti sottoskill decine se non centinaia però sempre tornando per al discorso di cercare di catalogare il più possibile quindi trovare un fattore comune che li possa accumulare quindi andare un po in un'ottica di di capire come stanno le cose più a basso livello possiamo identificare due macro categorie secondo me che sono gli hard skill e soft skill gli hard skill sono caratterizzati dal fatto che sono ripetibili quindi sostanzialmente quando io imparo qualcosa e posso ripetere ripetere sempre lo stesso modo quindi ho sempre un risultato lo stesso risultato e so qual è il risultato a cui a cui voglio tendere questo è un hard skill il soft skill invece è più particolare perché presuppone un un output diverso un diverso di risultato un differente risultato a seconda del anche a parità di chiamarlo di input e vi faccio qualche esempio un esempio ad esempio che mi viene in mente è quello del suonare uno strumento quindi l'hard skill sarà la ditteggiatura il pianoforte faccio la scala so fare un accordo degli accordi e quindi sono sono cose su cui su cui posso lavorare e imparare a farli in maniera sempre uguale quindi sempre arrivando a affari nella maniera nella maniera corretta invece il soft skill può essere un discorso di improvvisazione quindi conosco degli accordi cerco di improvvisare comunque di costruire qualcosa e lo posso fare in maniera diversa e ovvio si vede che sono sono complementari perché ovviamente diciamo sono sono diversi tra loro però è anche vero che sono strettamente collegati perché i soft skill sostanzialmente si basano sugli hard skill quindi un consiglio soprattutto all'inizio di una quando si approccia una nuova disciplina ovviamente si parte da quelli che sono i fondamenti e quindi si cerca di andare sugli hard skill però il mio consiglio è anche quello di divertirsi con i soft perché tra i due sono sicuramente più divertenti e quindi molto spesso si fa l'errore di concentrarci solo sugli hard che è la parte meno divertente magari senza arrivare una parte più più di divertimento più più espressiva e questo secondo me può causare un problema perché alla fine magari non arrivi poi a non vai avanti proprio perché la cosa diventa solamente meccanica e non c'è una forma più di organizzazione di riarrangiamento delle di quello che si di quello che si sta imparando però questo sostanzialmente è è un è un sono diciamo le 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 due le due divisioni ok questo è il diciamo il primo il primo aspetto qui una prima categoria il secondo aspetto fondamentale di cui tenere conto durante una una sessione di apprendimento quando si approccia qualcosa di nuovo è quello del contesto proprio del contesto di apprendimento perché perché il contesto di apprendimento in base al contesto di apprendimento ne parlavamo prima rispetto al barbecue ovviamente mi cambia molto come approccio qualcosa come lo faccio e quali sono gli strumenti che posso usare per raggiungere per raggiungere un obiettivo vediamo un attimo più in dettaglio il il primo punto è sicuramente importantissimo è il goal cioè il perché io apprendo voglio prendere un qualcosa voglio continuare ad apprendere un qualcosa due motivazioni principali sono il perché lo voglio fare perché mi piace fare mi piace l'idea e insomma ho la voglia di esplorare questa cosa oppure ho la necessità di farlo ehm così per esperienza il primo è sicuramente più ti dà più motivazione all'inizio però anche quello più eh un po' più volitivo nel senso che puoi perdere e magari interesse o comunque può 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 scemare il secondo magari è più lo si quasi lo subisce all'inizio eh però poi c'è una magari c'è una necessità forte una scadenza perché non so voglio voglio passare una certificazione voglio lavorare insomma c'è qualcuno con una necessità forte e quindi il secondo è da sicuramente più eh è più è più forte come 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 tipologia di di goal eh una volta capito questo l'altro passo fondamentale è dire ok voglio raggiungere un certo obiettivo quali sono eh i gli obiettivi cioè gli obiettivi diciamo di medio termine come ci arrivo a a raggiungere questo a raggiungere questo goal e e quindi devo entrare un po' più nel dettaglio e vado a fare un po' un approccio insomma classico di video team però no in cui vado a prendere una cosa e la inizio a scomporre in eh in quelli che possiamo chiamare achievement cioè sostanzialmente degli step eh che messi in fila uno dopo l'altro mi permettono di arrivare a una a un determinato obiettivo di lungo termine quindi anche un goal ehm gli achievement per essere efficaci e qua insomma facciamo un po' di presto l'approccio management comunque dovrebbe essere sicuramente seguire l'approccio smart eh quindi per chi non lo conosce comunque l'approccio smart è un acronimo per eh per dire che deve essere comunque qualcosa di specifico deve essere qualcosa di misurabile eh qualcosa di achievable quindi di raggiungibile eh qualcosa di rilevante e qualcosa di time 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 bounded comunque diciamo eh con una durata quindi che non una durata definita quindi definendo una serie di ehm eh questi achievement posso iniziare a a a ad avere un percorso eh che mi porta poi al a al goal ad ogni ad ogni questo a ciascuno di questi achievement possiamo associare e questo poi li vedremo in dettaglio un filo più avanti delle learning methods che possono ovviamente variare a seconda del tipo di achievement a seconda se magari un hard skill un soft skill insomma quindi posso posso avere un po' di di scelta e una parte dell'esperienza di imparare e imparare è proprio capire quali sono i metodi che rispetto a un certo un certo achievement eh possono essere più efficaci non soltanto rispetto all'achievement e al goal ma ma anche rispetto alla terza parte rispetto a dei constraint ovviamente posso avere dei constraint ehm di tempo di risorse quindi devo cioè ho l'esame fra due mesi eh non ho accesso a questo posso avere solo accesso a questo anche economici nel senso devo prendere devo pagare un corso X un istruttore eccetera eccetera quindi sostanzialmente ho dei vincoli che mi possono precludere o meno una una certa una certa strada eh l'altra cosa importante è che questo learning contest ovviamente è variabile è variabile nel tempo cioè può cambiare nel senso può cambiare anche il goal perché magari eh da una cosa che ho deciso di fare scopro che mi piace e quindi eh diciamo la cosa eh la cosa prende un'altra piega posso invece decidere che questa cosa non fa per me e quindi la la in qualche modo la la termino eh oppure insomma cambia un po' cambia un po' l'approccio ma soprattutto anche i miei oggetti possono cambiare perché banalmente non li conosco tutti all'inizio se io inizio a fare qualcosa magari parto dalle basi e poi dalle basi scopro cose che prima non sapevo e ovviamente è un po' simile insomma a un backlog no? Quindi quando si iniziano magari gli sviluppi di qualcosa si inizia una cosa e poi mano a mano si scoprono cose quindi vengono fuori altri altri elementi da di cui tenere conto e anche in costrente banalmente possono possono cambiare perché eh posso posso avere dei dei cambiamenti insomma anche da questo punto di vista quindi è importante eh fare un discorso di anche di insomma di mh di check periodico per vedere se sono cambiate le condizioni in qualche modo andare a eh a riallineare quelli che sono le ehm gli obiettivi, i goal e eventualità che i costretti che possono appunto cambiare nel tempo. Ok quindi eh abbiamo visto eh insomma siamo partiti dal dal concetto di apprendimento un po' così nel senso apprendo però invece abbiamo iniziato a eh a vedere come possono esserci partendo da diciamo bottom up dall'esperienza quindi ci possono essere skiller, skill, soft skill, stiamo parlando di learning contest e quindi ehm possiamo dire ufficialmente di aver fatto il primo passo dentro il concetto di 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 metal perché? Perché ci siamo posti un po' al di fuori no? Quindi meta ci portiamo al di fuori e andiamo a eh invece di fare un'attività andiamo a capire quali sono i i razionali dietro e iniziamo a ragionare e a capire come come muoverci rispetto a a a delle a delle dimensioni che altrimenti non vedevamo se stavamo dentro l'attività stessa e quindi questo è ehm è è diciamo un primo passo è già un primo segnale del fatto che appunto se si vede un po' da fuori si cambia un po' il punto di vista eh il è possibile effettivamente vedere come ci sono tutti gli elementi di un qualcosa che si può apprendere, migliorare, cambiare eccetera eccetera. Ok siamo partiti adesso eh diciamo da da bottom up però una volta abbiamo preso consapevolezza di ehm di questa cosa è naturale fare un po' uno shift no di prospettiva e ehm e andare un po' top down e quindi ehm eh andiamo un po' a vedere quali sono le cose un po' di teoria sostanzialmente un po' di cose ehm riguardo riguardo all'argomento lo vediamo da tre punti di vista, da tre direttive diverse che sono un po' di storia di quelli che sono stati i modelli eh diciamo nel nel tempo almeno nell'ultimo secolo eh che sono stati sviluppati rispetto all'apprendimento ovviamente vediamo proprio pochissimi giusto per per dare un un'idea lo vedremo lo vediamo da un punto di vista neurologico perché è interessantissimo sapere come funziona molto ovviamente in maniera molto approssimata il cervello e e capire quali sono i meccanismi che stanno dietro a un a un discorso di apprendimento per poterli eventualmente eh diciamo usare a proprio vantaggio e quindi andare a a sfruttarli e poi lo vediamo da un punto di vista pratico quindi vediamo quali sono eh i eh dei learning methods che possiamo che possiamo utilizzare e per chi invece eh ha voglia o necessità anche di magari di partire da qualcosa di più strutturato ovviamente ci sono anche i framework e quindi vedremo un accenno di un framework eh che sostanzialmente mh prende questi questi elementi li metti assieme e quindi ho 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 appunto avendo un framework posso avere già un qualcosa di molto solido e strutturato da cui partire quindi posso decidere di utilizzarlo e quindi iniziare a a strutturare il mio percorso di apprendimento seguendo gli elementi di di questo framework per cui eh partiamo con eh con quella prima parte un po' di storia ehm allora come dicevo ci ci limitiamo a fare una brevissima panoramica si potrebbe parlare a partire dal insomma dal proprio dai tempi antichi eh a me personalmente piace piace molto Socrate eh mi è piaciuto il discorso di di sapere solo di non sapere come approccio che è un approccio che ti spinge a ovviamente a a migliorare sempre funzionerà un po' meno quei collochi quindi questo non è ovviamente essere socratici ai collochi di lavoro non non aiuta però se si riesce a separare le cose eh si prendono il meglio di entrambi sostanzialmente però se ci limitiamo a eh all'ultimo insomma al novecento eh vale la pena sicuramente ricordare questi 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 movimenti allora il primo sono il comportamentismo i primi del novecento eh in cui sostanzialmente l'apprendimento è un cambio di comportamento che è triggerato da un fattore esterno e in cui sostanzialmente il soggetto che apprende è piuttosto decisamente passivo l'esempio uno degli esponenti più più famosi è Pavlov quindi avrete sentito penso nominare e a supporto di questa teoria il insomma l'esperimento più famoso è quello del famoso è quello del cane di Pavlov in cui sostanzialmente un cane era un cane veniva dato del somministrato del cibo eh per un po' di volte associato al suono della campanella una campanella e dopo un certo punto un certo numero di diciamo di ripetizioni bastava suonare la campanella senza che ci fosse il cibo perché il cane associasse e iniziasse a salivare proprio perché associava il suono della campanella il cibo e quindi questo è un esempio di condizionamento quindi è legato proprio al all'essere triggerato da da un fattore esterno e sostanzialmente io apprendo perché cambio il mio comportamento rispetto appunto a uno stimolo che dicevo poi sono stati altri esponenti quindi ehm schiener eccetera però in generale il concetto è questo il soggetto è piuttosto passivo eh il cognitivismo invece è arrivato un po' dopo e ha introdotto un un concetto di di modello eh mentale sostanzialmente per cui il abbiamo eh una struttura mentale e il l'apprendimento vuol dire cambiare cambiare questa struttura eh il che da un certo punto di vista soprattutto da un punto di vista neurologico è piuttosto è piuttosto corretto perché vedremo che eh l'apprendimento a livello neurologico effettivamente implica la riconfigurazione dei percorsi neurali ehm e quindi da un punto di vista neurologico effettivamente cambiamo un modello cambiamo un modello del nostro cervello ogni ogni giorno abbiamo un cervello diverso rispetto al giorno precedente e quindi imparando questa è un'attività che succede però eh da un punto di vista più più astratto ehm ovviamente anche questo modello insomma sembra un po' come dire un po' riduttivo no? E infatti i costruttivisti eh successivamente ma non nemmeno tanto hanno introdotto il concetto di di esperienza quindi il l'apprendimento non è un non è un processo uguale per tutti ma è un è un qualcosa che deriva è soggettivo quindi ognuno ha un suo percorso una sua esperienza e quindi non c'è non c'è un modello comune ehm che sicuramente un passo avanti perché appunto tiene conto del eh insomma di della della singolarità della persona ehm l'informatica ecco prima di passare al collettivismo che è è comunque legato eh dagli anni sessanta è importante notare come anche l'informatica insomma qui il nostro mondo ehm abbia iniziato a diventare uno strumento importante in ottica anche di diciamo di apprendimento e di didattica e uno il primo uno dei primi dei pionieri di questa di questa cosa è stato Samuel Papert che negli anni sessanta ha addirittura inventato un linguaggio che si chiama logo che deriva deriva dall'ISP e ha dato proprio per i più piccoli c'è una tattorghina che tu comandavi facevi fare dei disegni e quindi proprio con un linguaggio quindi programmazione e quindi è stato il primo a capire eh insomma l'importanza anche dell'informatica quindi dei computer come 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 strumento strumento di dati o vabbè comunque di apprendimento e e questo poi sì sì ovviamente i tempi sono cambiati e si è arrivato a a teorie un pochettino più avanzate come il connettivismo che è insomma degli anni duemila eh che viene un po' definita pomposamente un po' pomposamente come insomma la 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 una una metodologia di conoscenza per la digital age sostanzialmente però in cui sostanzialmente si parla di network dove ci sono connessioni eh anche tra tra fonte dati che non sono umane necessariamente non umane insomma quindi c'è diciamo sicuramente una visione più legata ai ai tempi ai tempi moderni e e quindi insomma diciamo eh queste sono un po' le le principali eh le principali eh le principali eh diciamo correnti che si sono si sono sviluppate in questi in questi ultimi anni c'è no in realtà c'è poi ce ne sono altre è interessante tra l'altro faccio un piccolo un piccolo escurso sul eh sul concetto di intelligenza che è cambiato anch'esso nel tempo l'intelligenza è sostanzialmente legata comunque sicuramente al ehm eh all'apprendimento e se passati ovviamente dalla fine dell'ottocento con con Binet l'approccio psicometrico quindi famigerato qui in cui ho una misura di sostanzialmente un numero che mi dice quanto una persona intelligente a modelli più sofisticati ehm in cui ad esempio ci sono si prevedono più tipi di 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 intelligenza con intelligenza linguistica ehm spaziale eh logico matematica insomma quindi sicuramente qualcosa di più complesso rispetto a un singolo numero che poteva ehm definire il valore di una cioè il valore di intelligenza di una persona che però insomma è durato parecchio nel nel tempo soprattutto negli anni cinquanta una cosa che dato tanto anche cognitivismo che aveva comunque un modello comune molti sono andati a nozze sul fatto di dire siamo tutti uguali questo è il tuo QI e quindi questo è il tuo livello di intelligenza assolutamente poi le cose sono un po' cambiate però comunque insomma è interessante e anche notare come c'è stata un'evoluzione fortunatamente anche del concetto di intelligenza che è comunque correlato all'apprendimento bene eh questo diciamo è un po' la panoramica giusto per avere eh per avere un po' un'idea di della storia di di insomma dell'apprendimento passiamo adesso alla cosa che è estremamente interessante e vabbè qua su qua chiede un attimino ovviamente venia se ci sono dei neurobiologi in ascolto là fuori scusate se semplificherò dire magari anche delle brutture perché ovviamente l'argomento è estremamente estremamente complesso e però insomma secondo me va la pena è molto interessante insomma cercare di capire un po' quei meccanismi di cui parlavamo prima anche da suo livello di come funzioniamo e quindi di come possono essere poi usati usati dopo durante durante l'apprendimento e quindi allora partiamo partiamo allora pochi fatti ma sono quelli che un po' insomma secondo me contano allora beh intanto il cervello eh lo sappiamo tutti è insomma è un organo super affascinante sicuramente ancora non del tutto conosciuto forse per usare un femmismo anzi probabilmente insomma abbastanza non conosciuto ed è estremamente estremamente complesso e tra l'altro è l'unico organo che può permettere diciamo che consapevolmente si può riorganizzare si può diciamo configurare in maniera in maniera diversa e quindi può cambiare la propria la propria morfologia insomma da un certo punto di vista è formato vabbè da miliardi di neuroni che sono tra loro collegati e formano e formano milioni insomma trilioni di sinapsi e i neuroni si diciamo si eh uniscono tra loro e formano dei dei percorsi neurali sostanzialmente dei gruppi di neuroni che sostanzialmente possono rappresentare dei concetti o delle azioni per fare qualcosa quindi immaginate che ci sia un gruppo di neuroni che minimi o un insieme ai neuroni che non so mi da la volere del tennis piuttosto che saper suonare qualcosa una scala piuttosto insomma sono diciamo dei dei gruppi di eh di cellule che messe assieme e riescono a farmi fare o pensare a delle cose. Importante a questo proposito anche il concetto di chunking, che è un altro concetto fondamentale. Perché? Perché come funziona il cervello? Il cervello processa dei pacchetti di informazioni. Il pacchetto di informazioni base lo possiamo chiamare un chunk, quindi un pezzo di un package di informazione, che sottende poi a una struttura neuronale sotto. Quindi io ho la mia rappresentazione, e poi fisicamente c'è un gruppo di neuroni che vi rappresenta un concetto. Vi faccio un esempio di chunking, giusto per capire. Immaginate x come concetto di variabile, quindi x è una variabile, è un chunking, ad esempio un chunk. 1 più 1 uguale 2, sono sicuramente più di un chunk, però sostanzialmente ho un'addizione e i numeri che vi rappresentano un certo concetto. x più 1 uguale 2. Quindi ho unito l'addizione, il concetto di variabile, in un altro concetto che è appunto quello di un'equazione. E questo è molto importante perché mi permette anche di sfruttare al meglio la memoria. Adesso scusate, faccio un salto sotto. Abbiamo due tipi di memoria sostanzialmente. Una memoria molto volatile, quindi pensiamo a una lavagna, oppure per stare in tema pensiamo a una RAM molto volatile, che in qualche modo si perde le informazioni molto velocemente se non vengono passate alla memoria a lungo termine, che invece è sostanzialmente infinita. Però il concetto di chunking, a parità di memoria, mi dà più capacità. Perché? Perché io faccio molta, poca fatica a ricordarmi x più 1 uguale 2 una volta che gli do un contesto nella mia memoria a breve termine, che ovviamente poi parla con quella a lungo termine attraverso dei meccanismi di retrieving e quant'altro. Però in generale, quando abbiamo la percezione di qualcosa, abbiamo capito qualcosa, qualcosa anche di nuovo, occupa meno spazio. È come se fosse zippata nella memoria a breve termine e quindi la posso usare in maniera più efficace. Pensate invece a un numero, anche la stessa espressione x più 1 uguale 2, se non fosse un contesto, non l'avesse contestualizzato, quindi devo ricordarmi x, il più, l'uno, o per fare un'analogia, pensate a un numero di telefono che cercate di memorizzare, no? Cercate, per memorizzarlo ve lo continuate a ripetere, perché avete bisogno di, non esserci un chunk dietro, c'è bisogno di ripetere in modo che si scateni un meccanismo che permetta poi di memorizzare questo numero e quindi attraverso la ripetizione, con un consolidamento, ripetendo un po' di volte, io passo dalla memoria a breve termine di lavoro alla memoria a lungo termine. E quindi sostanzialmente, perché altrimenti lo perderei, quindi se uno mi dice un numero, magari dopo un minuto non me lo ricordo nemmeno, magari l'ho ripetuto un paio di volte, ma non l'ho memorizzato, perché mi manca il concetto proprio di chunk, che è fondamentale. Tra l'altro la cosa veramente fantastica del chunk è che sono componibili, come abbiamo visto, quindi io posso prendere informazioni e metterle assieme. E tra l'altro questo poi mi permette anche di fare una cosa che si chiama transfer learning, che per chi conosce le detti morali sa che esiste anche le detti morali artificiali, ma è una cosa potentissima, perché appunto mettendo insieme più informazioni io posso andare a costruire altri concetti e essere più efficaci anche nell'apprendere qualcosa di simile e quindi diciamo di farlo mio. E questo ovviamente presuppone il fatto che se imparo delle cose sono agevolato per impararne altre, quindi poi se ripeto la cosa ovviamente il vantaggio aumenta mano a mano che il mio gruppo di chunking che ho a disposizione, di chunk, scusate, che ho a disposizione aumenta nel tempo. Prima di passare alle modalità di apprendimento appunto alla focus e diffuse, però vi racconto un aneddoto, adesso che abbiamo gli elementi un po' per capirli. Uno studioso nel 2001, partendo da questo presupposto, quindi abbiamo dei concetti, sono gruppi di neuroni tra loro organizzati e noi siamo fatti con neuroni appunto che possono essere collegati, si è chiesto, ma quali sono, se io parto dal presupposto di volere che tutte le connessioni possibili e immaginabili in un cervello mi rappresentino la totalità dei concetti che possono essere concepiti, quanti sono questi concetti, no? E che è affascinante come domanda. La risposta è clamorosa perché facendo un po' di calcoli combinatori viene fuori che sostanzialmente un cervello umano avrebbe la possibilità teorica, cioè potenziale, proprio combinando con un gruppo, diciamo, di neuroni, se non ricordo male, era perso da mille, quindi mille era il gruppo base di neuroni, quindi con mille neuroni, combinandoli tutti, facendo tutte le combinazioni possibili, viene fuori un numero che forse probabilmente è il numero alto, più alto in assoluto insomma di qualcosa di empirico, credo si chiama proprio numero di olderness, che viene fuori una cosa del tipo 10 elevato alla 70 mila miliardi, ok? Quindi questi sarebbero sostanzialmente il numero di concetti che potenzialmente un cervello potrebbe, sulla base, usando un cluster, diciamo, di un gruppo di mille neuroni potrebbe rappresentare. Tanto per darvi un'idea, il gruppo, cioè il numero di atomi dell'universo, diciamo, visibile, conosciuto, la stima è circa 10 all'80, quindi, cioè, 70 mila, 10, 60 mila miliardi, 10 all'80, questo per darvi un'idea della, insomma, è un fatto estremamente curioso, è interessante, e quindi, vabbè, ve l'ho detto. Torniamo a noi, due tipi di memoria, allora, scusate, due tipi di modi di apprendimento, allora, l'apprendimento focused e diffuso, allora, il focus è quello, come dice il nome, in cui sostanzialmente attiviamo una certa parte della corteccia, quella frontale, e andiamo a, come dire, a ingaggiare un'attività di apprendimento su un qualcosa di molto specifico, quindi siamo focalizzati su una cosa, e andiamo a, sostanzialmente, a concentrarci su quella. La diffuso, invece, è diversa, nel senso che, avviene quando non ho uno sforzo sostanzialmente concentrato, appunto, come dice il nome, ma è, mi permette di, diciamo, di avere una visibilità più ampia sul cervello, cioè, sostanzialmente, di mettere in comunicazione più gruppi di neuroni che magari non sono, sono anche in aree diverse, e avviene soprattutto quando non sono proprio concentrato, cioè sono mutuamente esclusive, ma la cosa interessante è che sono mutuamente esclusive sullo stesso tipo di problema, e questo mi dà la possibilità di giocarmi questo trick pratico, per cui, quando faccio, ad esempio, un test, se parto dalla domanda più difficile e mi do un limite di tempo, il cervello, intanto, recepisce questa cosa, poi passo magari a un'altra domanda più semplice, lavori in modalità focused, però nel frattempo in background la modalità diffusa comunque lavora, e quindi, diciamo, sono più efficaci nell'affrontare un test proprio perché può succedere che mentre sto comunque lavorando su qualcosa di più facile, in modalità focalizzata, nel frattempo il cervello lavora in background, ma questo lo sappiamo anche quando succede che magari siamo, c'è un qualcosa che non riusciamo a risolvere, ci facciamo una passeggiata e bam, improvvisamente la cosa viene fuori, questo proprio perché attiviamo una modalità che è diversa, che a basso livello funziona in maniera diversa e questo vabbè, tra l'altro aprirebbe anche un discorso sull'efficacia di lavorare insomma in un certo modo almeno per il knowledge worker quindi insomma la possibilità effettivamente di prendere e staccare da se fare una passeggiata cioè che sembra una cosa non lavorativa ma in realtà invece aiuta moltissimo proprio dopo non si è alle presse con qualcosa che non si riesce a risolvere. ultimo aspetto neuromodulatori neuromodulatori sono sostanze chimiche che al di là oltre ad essere ovviamente necessarie per la nostra sopravvivenza per le nostre relazioni e quant'altro hanno un ruolo anche nel diciamo nell'apprendimento ci sono appunto adesso vediamo i pinefrina aceticalcolina aceticalcolina dopamina e poi altre tipo la serotonina e quant'altro. Ok accedero un po' perché ho visto che è un po' lungo proviamo a immaginare adesso sapendo questo come avviene una sessione di apprendimento quindi io voglio imparare qualcosa un concetto qualcosa o qualcosa di pratico diciamo per semplicità in modalità focalizzata quindi mi metto lì la cosa molto semplice a dire è ok mi metto lì faccio faccio qualcosa imparo finisce il mio tempo a cui dedico questa attività imparo cioè faccio delle cose mi riposo questo è importantissimo perché sostanzialmente la vera trasformazione cioè il vero cambio dei percorsi neurali avviene durante l'attività di riposo quindi è fondamentale riposarsi per tanti motivi ma anche per questo e poi ripeto quindi sembrerebbe piuttosto facile in realtà andiamo a vedere come fare un'attività anche una singola attività tipo di moro un'ora e mezza sia un insieme di trade off cioè bisogna trovare il giusto bilanciamento perché perché intanto ho bisogno di essere nello stato focalizzato di attivarlo per attivarlo c'è l'epinefrina quindi che mi dà la botta l'epinefrina è sostanzialmente l'adrenalina prodotta nel cervello quindi mi dà una botta magari ho una scadenza ho già l'epinefrina già in circola perché dico calcolo devo assolutamente studiare eccetera eccetera però devo essere in uno stato quindi sufficientemente focalizzato ma non troppo cioè se la mia epinefrina va oltre io non riuscirò a focalizzarmi perché penserò anche ad altro e quindi continuerò a essere meno efficace non riuscirò a focalizzarmi nella maniera giusta faccio qualcosa e devo fare qualcosa però che sia mi permetta di imparare cosa vuol dire mi permetta di sbagliare questo è fondamentale cioè bisogna sbagliare cioè lo sbaglio è alla base stessa dell'apprendimento quindi devo sbagliare ma devo sbagliare come? non devo sbagliare insomma a muto devo sbagliare in un certo modo devo sbagliare cercando di capire dove sbaglio andando eventualmente anche ad ampliare questo sbaglio per far capire ok qua ho sbagliato e devo sbagliare cercando di non cambiare troppe condizioni a contorno facciamo un esempio se io provo un servizio a tennis mi devo concentrare solamente su un aspetto solo e vado a perfezionarlo perché se ogni volta che faccio un servizio cambio completamente posizione inclinazione forza eccetera il cervello fa più fatica a capire dove stai dove correggersi però se io sbaglio in maniera consapevole e ottengo un effetto amplificato dell'apprendimento quindi imparo meglio nello stesso tempo però devo scegliere un'attività che mi permette di sbagliare ma non troppo perché se faccio qualcosa di troppo difficile arriverò alla frustrazione e non imparerò nulla anzi magari la conseguenza che poi mollo tutto se invece faccio qualcosa di troppo facile a meno che non sia un solidamento ma se voglio imparare qualcosa deve essere qualcosa che mi fa sbagliare se non sbaglio non imparo e il terzo fattore è il fattore anche del tempo sostanzialmente perché posso fare una cosa di otto ore nove ore no sostanzialmente no perché ognuno più o meno è soggettivo però dopo un'ora un'ora e mezza poi si perde efficacia diciamo questo equilibrio si perde e diventa meno efficace quindi magari faccio cinque ore però poi l'efficacia non è sicuramente quindi rischio di perdere anche del tempo e quindi vedete come non è banale nel senso sembra una cosa e soprattutto però se è fatta con constapevolezza attivano tutta una serie di meccanismi che mi permettono di tenere d'occhio cosa sto facendo quindi di smettere quando è tempo di riposarmi e magari andare a fare una passeggiata e poi dopo di ricominciare ed è sicuramente più efficace adesso vedremo che cosa intendo in dettaglio insomma quindi questo è un po' il un po' come avviene insomma come funzioniamo molto molto semplicemente e tra l'altro un sacco di cose assumono una connotazione diversa un sacco di esempi di proverbi tipo la necessità guzza l'ingegno è vero nel senso che se una necessità ho l'epinefina che mi attiva e in qualche modo mi attivo sicuramente più velocemente rispetto a se sono appena sveglio o nessun tipo di voglia di fare qualcosa il celeberimo sbagliando si impara ecco sbagliando si impara è una delle cose che uno dice da proprio prescontato di sì ok sbagliando si ma dimmi qualcosa che non so in realtà sbagliando si impara è esattamente quello che deve succedere nel senso che se non sbagliamo non impariamo questo vale soprattutto per l'attività di art skill focalizzate però in generale comunque lo sbagliare è quello che ci permette di avere un feedback e di correggerci e quindi di arrivare poi a fare qualcosa di giusto tra l'altro quando poi facciamo qualcosa di giusto ci arriva la botta di dopamina che è una cosa che ci fa sentire bene e questa è un'altra cosa che possiamo sfruttare nel senso nostro vantaggio perché poi ne vogliamo ancora però se ne vogliamo ancora dobbiamo in qualche modo shiftare un attimino avanti e fare qualcosa di un attimino più sfidante rispetto a prima perché altrimenti non ce l'abbiamo più e quindi questa è un'altra cosa interessante insomma sulla dopamina ci serve da parlare veramente è una cosa interessantissima e quindi insomma tra l'altro ecco un'altra cosa anche sull'intervallo c'è un'altra frase che secondo me è fantastica sul fatto dell'efficacia dell'intervallo c'è una bellissima frase di Bussli che dice non temo l'uomo che ha tirato 10.000 calci una volta ma temo ma temo l'uomo che ha tirato un calcio 10.000 volte e alla luce insomma di quello che abbiamo appena detto ha un significato fantastico nel senso che dà proprio l'idea di come sia importante fare qualcosa ma non un colpo solo ma ripetelo più e più volte e lasciare l'intervallo diciamo tra un'attività e l'altra proprio per poter avere diciamo il massimo vantaggio e quindi anche consapevolezza di come si sbaglia e di come migliorare ci ho detto diciamo questa è un po' una panoramica a livello di cervello di come funzioniamo arriviamo al terzo punto che invece è quello un pochettino più più pratico e quindi vediamo alla luce di quello che sappiamo i perché dell'efficacia di queste cose allora active reading allora perché active nel senso che allora purtroppo ho una brutta notizia cioè leggere qualcosa non serve praticamente a nulla cioè forse è livello superiore soltanto a non leggere però in ottica ovviamente il formulo cioè in ottica di apprendimento mantenimento eccetera eccetera perché sostanzialmente la sola lettura è molto poco efficace è poco efficace il fatto anche di sottolineare o di evidenziare non so se uso il Kindle diciamo è un livello sopra ma è comunque poco efficace anzi può dargli come dire la percezione di essere invece di ah no questa cosa qua l'ho sottolineata quindi so che è importante eccetera insomma per farla breve la cosa più utile sarebbe rifare una specie di riassunto tra l'altro scritto a mano perché la scrittura a mano comunque è più abilitante rispetto a battere le tasse sulla tastiera però in generale è importante fare sempre un meccanismo di come dire di riorganizzare l'informazione di fare quindi creare dei chunk capire quello che è importante metterlo a terra e sostanzialmente darsi anche un feedback nel senso che se io voglio mettere giù qualcosa e non è chiaro neanche cosa lo vado a rileggere e quindi attivo tutta una serie di meccanismi che semplicemente leggendo non ho altra cosa molto interessante è la spesa di repetition io ho messo un tool che si chiama anche che è molto carino quando devo memorizzare comunque dei concetti in questo caso è tutto hard tipo delle cose anche melmoniche o comunque è importante ripetere più volte ma non ripetere più volte a intervalli si può fare anche intervalli regolari però è più efficace se io vado a ripetere più volte le cose su cui sono meno sicuro quindi un'applicazione come Anki mi permette mi chiede delle cose se rispondo molto velocemente me le richiederà più in là se invece ho dei dubbi o faccio fatica o non le so proprio me le richiede subito magari me le richiedo un giorno dopo mentre quelle che invece sapevo bene me le richiede magari una settimana dopo e quindi in questo caso io mi concentro su quello che non so e quindi il mio processo di apprendimento mi permette di apprendere di memorizzare le cose su cui effettivamente sono o più di o di lavorare di più sulle cose su cui sono meno sicuro e questo mi permette appunto di fare anche pratica di retriva cioè andare a recuperare l'informazione e quindi ogni tanto ho intervallato andare a recuperare ok mi ricordo questo mi ricordo quello eccetera il chunking quindi il meccanismo di andare a un concetto a metterlo a terra attraverso note attraverso mind map mi piacciono molto i mind map sono abbastanza efficaci però è fondamentale proprio perché vado a prendere l'essenza e il chunking come abbiamo visto è lavorabile anche sulla working memory quindi riesco a usare questo concetto una volta che l'ho capito e soprattutto per memorizzare qualcosa devo averlo capito e devo poi ripetere più volte il processo se mancano mancano queste due cose è molto difficile poi andare a recuperare a memorizzare una memoria a lungo termine quello che voglio imparare il memory palace è interessante perché prima ve lo spiego sostanzialmente l'idea è quella di immaginare un luogo conosciuto che può essere casa propria un percorso che si conosce in qualunque cosa e andare a piazzare dentro dei concetti che si vogliono memorizzare magari attraverso una sequenza sconsoluzione in sequenza questa è una tecnica che viene usata soprattutto da chi deve imparare velocemente tante cose o memorizzarle ed è interessante perché da un punto di vista neurologico sfrutta una parte del cervello che è molto sviluppata che è la parte legata alla spazialità che ovviamente nel corso dell'evoluzione l'uomo delle caverne aveva più bisogno di ricordarsi dove era l'accampamento di casa o di sfuggire i predatori piuttosto che di elaborare equazioni e quindi sfruttando questa parte del cervello che è molto sviluppata riusciamo ad usare questa tecnica proprio per memorizzare velocemente tante cose e quindi uniamo questi due concetti l'interleaving e l'ex interleaving vuol dire sostanzialmente andare a non studiare qualcosa in sequenza ma andare a alternare un qualcosa con qualcos'altro che può essere all'interno della stessa disciplina quindi magari una volta faccio non so sempre scala il pianoforte una volta faccio accordi una volta faccio qualcos'altro o addirittura discipline diverse questo perché possiamo diciamo è più efficace a volte staccare e quindi andare a ingaggiare qualche altra parte dello stesso sistema nervoso piuttosto che continuare secco sempre sulla stessa parte poi vabbè qua andiamo su cose più comuni usare ovviamente acronimi metafori cioè qualcosa che mi permetta di concettualizzare un qualcosa attraverso in maniera veloce ecco importantissimo il fatto di teaching allora il teaching è una forma molto importante di feedback perché nell'atto di insegnare qualcosa anche soltanto di preparare un qualcosa io mi rendo conto se effettivamente questa cosa lo so il metodo di Feynman diciamo poi è interessante perché cita proprio il fatto di preparare un qualcosa per magari per un'udienza anche poco tipo bimbi cioè provate a spiegare un concetto anche difficile a un bimbo in maniera semplice e questa cosa qui implica tutta una serie di precondizioni che se non sono raggiunte uno se ne rende conto e allora va a studiare quindi prima di quindi ha comunque con feedback feedback è comunque all'ilà di questo si può ottenere in tanti altri modi chiedendo a qualcuno piuttosto che facendo dei test eccetera eccetera quindi sostanzialmente ci sono tanti altri modi oppure un altro modo può essere appunto quello di di ingaggiare un coach di fare un corso insomma quindi vedete come se vi ricordate a parità di learning method io posso scegliere delle strade posso anche mischiarle e quindi cercare qual è un mio percorso diciamo di apprendimento per chi invece come dicevo siamo quasi alla fine ah questo scusate vi faccio vedere questo è un esempio di quello che sto facendo io da un po' di tempo in cui queste cose si possono anche mischiare quindi questo è un esempio di active reading più chunky più interleaving perché sostanzialmente metto a terra cose che leggo sento eccetera in podcast e me le categorizzo cercando appunto di riassumere in poco tempo in pochi concetti che vado poi a salvare e questo permette non sarà così efficace come scrivere a mano però questo mi permette di avere una panoramica di cose di poter fare delle ricerche di poter anche fare cross rispetto ad altre discipline e quindi è una cosa che è interessante perché poi man mano si accumulano e quindi sono poi forme di chunk di informazioni che poi posso riutilizzare per tante cose o anche semplicemente andare a ripassare ma vabbè uso un codice colore adesso non entro nei dettagli però in generale questa è una cosa che può essere interessante soprattutto quando si legge qualcosa e si vuole mettere a terra il concetto però ovviamente questo è un esempio ognuno può ci sono tante altre possibilità di cosa di fare questo tipo di attività parlavamo di framework questo qua adesso vi faccio vedere giusto un video di una mind map giustamente questo framework si chiama ultra learning è molto interessante insomma poi l'autore ha fatto delle cose piuttosto incredibili e questo è diciamo qualcosa di come vi dicevo qualcosa di più strutturato adesso vi faccio partire il video giusto per farvi darvi l'idea di come ho organizzato non entriamo in dettagli mi è piaciuto tardissimo però sostanzialmente si basa su su nove principi che sottendono a varie attività quindi la parte di metal learning in cui comunque mi chiedo cosa voglio fare il perché eccetera insomma sono cose che abbiamo anche visto in parte come mantengo il focus il fatto di fare drill down soprattutto sulle cose di cui si sa che si sa meno il discorso della retention il discorso dell'esplorazione anche di nuove cose insomma è piuttosto complesso però è interessante anche perché poi mi agevola mi dà un discorso operativo quindi io seguendo questi principi posso avere diciamo degli step quindi posso fare parto con una fase di ricerca quindi quando approccio qualcosa faccio una fase di ricerca mi faccio le mie domande i suoi goal eccetera eccetera schedulo una calendarizzazione quindi cerco di capire quanto tempo ci posso fare eccetera magari faccio anche un pilot e poi sostanzialmente faccio seguendo questi principi e vado a a ripetere e poi eventualmente poi gestisco anche la parte di diciamo di retension finale di mastering piuttosto che anche di insomma di retention però in generale insomma copre tutto quello che abbiamo visto in maniera strutturata ed è anche una lettura interessante bene allora siamo direi sì ok chiudo con con quelli che possono essere invece delle problematiche ovviamente insomma come avete visto è una cosa piuttosto complessa però ovviamente nel fare le cose insomma ci sono anche problematiche che possono emergere queste sono quelle principali che mi sono venute in mente sicuramente il volere imparare qualcosa senza fare ecco è importante mettersi in gioco subito imparo qualcosa cerco di farlo qualcosa di pratico perché altrimenti non ho un feedback se non ho un feedback non so dove sono non è che esercise è fisico nel senso che in generale l'attività fisica aiuta tantissimo qualunque sia la cosa che si vuole fare che sia fisica non fisica hard soft il cervello ha bisogno di muoversi cioè di fare attività fisica anche perché ne beneficia tutto il corpo però è veramente importante l'over learning che in qua è una sezione negativa che non vuol dire diciamo specializzarsi in qualcosa ma vuol dire è un po' come l'over training cioè andare a fare troppo troppo learning troppe sessioni di learning in troppo poco tempo senza dare la possibilità di riposarsi o anche magari andare in una condizione in cui a me è capitato ogni tanto capita in cui se non sto imparando qualcosa mi sembra di perdere tempo che è una roba che poi ovviamente ha delle implicazioni insomma anche sociali non bellissime però in generale è una cosa che può capitare non ho fatto di insomma di di dire ah devo imparare devo imparare però a un certo punto lo sappiamo diventiamo meno efficaci insomma se esageriamo come in tutte le cose non avere un contesto di apprendimento diciamo specifico non avere una gestione del tempo perché ovviamente ci vuole del tempo soprattutto se l'obiettivo è alto comunque sfidante e quindi ovviamente il tempo bisogna 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 trovarlo la mancanza di motivazione di disciplina la disciplina è molto importante ripeto soprattutto se il gol è a lungo termine questo perché poi la motivazione ovviamente nel tempo un po' bisogna alimentarla ecco è ovvio che ci sono degli alti e bassi soprattutto lo sforzo di apprendimento è lungo quindi non è una cosa tipo due giorni tre giorni magari sono sei mesi un anno cinque anni quindi insomma è ovvio che può cambiare il plateau raggiungere un plateau vuol dire che si arriva a un punto in cui si fa tutto bene ma non si va avanti questo avviene soprattutto in discipline sportive ma vale per tutto in questo caso qua bisogna sostanzialmente cambiare drasticamente l'approccio e quindi bisogna cambiare qualcosa cioè cambiare il training sostanzialmente perché c'è qualcosa che non va e questa è una cosa che si supera con un po' di esperienza quindi bisogna avere l'esperienza di capire ok sto sbagliando più di così non faccio mi metto in gioco cambio tutto quello che ho visto lo rifaccio e provo un altro approccio di apprendimento per superarlo il fatto di non riposarsi perché è fondamentale abbiamo visto che è durante il sonno che il nostro cervello si riconfigura e quindi effettivamente apprendiamo dormendo una volta che abbiamo fatto la nostra attività prima e poi il fatto vedi proprio di non divertirsi nel senso che cioè imparare qualcosa è divertente al di là poi della dopamina che ci arrivavamo che bello non ci sono riuscito a fare non ci sono riuscito a capire però in generale è divertente e anche se impariamo magari qualcosa che non ci piace dobbiamo imparare qualcosa che non ci piace per necessità se non altro è bello magari trovare divertimento proprio nell'atto di farlo e quindi insomma andare un po' in meta anche in questo bene allora io facciamo proprio un riassuntone nel senso che abbiamo visto come la insomma la impariamo insomma che spero di avervi convinto che effettivamente imparare è uno skill che può essere studiato migliorato e insomma perfezionato e quindi su cui si può fare allenamento e si può migliorare e abbiamo visto un po' come funzioniamo quindi come funziona il cervello insomma è molto affascinante e abbiamo visto come possiamo fare praticamente delle insomma delle usare questi dei sistemi perché ci aiutano a migliorare e a imparare in maniera più veloce e abbiamo visto insomma che però è non sempre facile perché ci sono ovviamente tante cose che possono andare male però insomma abbiamo anche visto che è sbagliato che si impara e quindi yes we learn grazie grazie mille grazie mille Antonello ma io vi lascio solamente due contatti ecco scusate poi mi taccio e allora davvero questo è un argomento che spero si sia capito mi piace tantissimo ci sto buttando veramente un sacco di energie e quindi per chiunque voglia approfondire discutere eccetera sono veramente a disposizione quindi scrivetemi contattatemi ci facciamo una chiacchierata insomma è veramente interessante e quindi davvero non fatevi non fatevi problemi insomma a contattarmi e vabbè ultimo lascio qualche link così ovviamente c'è tantissimo però in generale insomma queste sono le cose che che ho visto gli ultimi due link sono rispetto al al concetto di abitudine che è uno strumento potentissimo purtroppo non c'è modo di parlare adesso però che aiuta una volta insomma sostanzialmente in poche parole se io ho l'abitudine poi di fare qualcosa il mio carico cognitivo è praticamente azzerato e quindi riesco anche nell'apprendimento a essere molto più efficace pensate a guidare una macchina non avete più il carico di pensare metto la prima eccetera una cosa che diventa automatica si può fare lo stesso anche nell'apprendimento una volta che si attiva questo tipo di abitudine ed è quindi una sinergia potentissima è un altro modo di sfruttare come funzioniamo a basso livello that's all ma guarda ti chiederei di condividere questi link nella chat si si va bene e andiamo a rispondere alle numerose domande che ti sono arrivate Antonello ah ok bene facciamo una premessa visto che non è prestissimo vediamo di risponderne un po' quelle che avanzano eventualmente te le inoltre e anche la community con una newsletter va bene assolutamente allora ok aspetta che sto cercando ok ci siamo eh che peso dalle abitudini nell'apprendimento esatto non penso di cosa mi ha anticipato consideriamo no si comunque magari faccio un attimo un passaggio cioè l'abitudine è un'arma a doppio taglio nel senso che poi sono abitudine positiva o negativa però c'è effettivamente un eh un potere enorme quando si acquisisce un'abitudine quindi il fatto di dire adesso devo studiare questa cosa no so che devo studiarla appunto cioè diventa una cosa dato un piccolo un piccolo hint ci sono varie stime su quanto serve a fare una ci serve a diciamo a crearsi un'abitudine però diciamo che dei numeri indicativi sono tipo 60 giorni 65 giorni quindi non è proprio dall'oggi al domani è una cosa che ci vuole un po' di tempo però è poi un'arma potentissima proprio perché diventa diventa automatico e quindi non ti poni più il problema e l'attualmente si concentra su altro piuttosto che porsi il problema se fanno una cosa o meno quindi questo è interessante quindi sicuramente l'abitudine è importantissima insomma è un'arma da usare sicuramente va bene passiamo alla prossima ti chiedo Antonello se puoi condividere solo il tuo volto invece ah sì certo chiediamo woman la prossima allora ma intanto bisogna un po' trovare la propria strada diciamo che l'errore principale è non non usare nulla cioè quindi una volta che uno ha un po' una consapevolezza spero che appunto stasera ti avrete dato un po' là ti inizi a porre delle domande e inizia a mettere a terra qualcosa poi puoi essere più o meno strutturato puoi usare un framework puoi avere semplicemente la consapevolezza di come apprendi anche nella singola sessione però in generale bisogna provare cioè comunque bisogna sbagliare nel senso che molte cose sono cioè ognuno ha un suo tipo un suo stile di apprendimento è una cosa che non l'ho detto qua però ovviamente ci sono anche modelli legati al fatto di com'è il proprio tipo di personalità quindi ci sono persone che sono più analitiche e ci sono persone che invece partono dall'esperienza quindi vanno bottom up quindi faccio una cosa e poi voglio studiare la teoria altre che invece partono dalla teoria e poi scendono alla pratica cioè ci sono tanti tanti aspetti di cui tenere conto bisogna imparare a conoscersi quindi l'errore principale però secondo me è non iniziare cioè non farlo nel senso non 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 porsi proprio il problema quindi questo è l'errore principale poi dopo si può solo migliorare sbagliando ma ci sta come dicevo lo sbaglio è la base dell'apprendimento quindi ci sta sbagliare ecco basta appunto sbagliare consapevolmente quindi imparare il proprio errore ecco ovviamente questo è la cosa più importante la prossima un learning break killer allora beh allora quello che vi ho fatto vedere sicuramente mi sta aiutando molto non è ci ovviamente richiede un po' più di tempo perché magari ero abituato a leggere un po' più di libri velocemente e adesso mi rendo conto che però se dovessi dirne uno qualunque cosa leggiate o sentiate di interessante provate anche in un tempo limite se uno si vuole vincolare un po' di più quindi magari non sono un minuto a buttare giù quello che vi è rimasto e a tenerlo lì e se c'è qualcosa che non è chiaro lo si va a rileggere fino a che non ti dice ok questa cosa qua l'ho capita l'ho messa a terra la metto lì poi magari due giorni dopo te la rivedi cinque giorni dopo un anno dopo però questa è proprio la base del shanking anche perché vi dicevo che poi col discorso del transfer learning è pazzesco perché quando impari qualcosa poi automaticamente ti metti nelle condizioni di poter essere più efficace di imparare qualcosa di simile io vi faccio l'esempio con grande giardine dei miei vicini ho iniziato a suonare violino da un po' sono terribile non ho un grosso come obiettivo non ho un grosso cioè non ho bellità particolare anzi però in generale mi sono reso conto che avendo suonato la chitarra per molti anni la manualità della mano sinistra ben che fassero viteggiatura diversa eccetera ce l'avevo già cioè non sarebbe stato molto diverso non avere mai approcciato uno strumento a corda come la chitarra e quindi questo è interessante come una cosa che ho fatto mille anni fa mi serve ancora per poter fare qualcosa magari 30 anni dopo per approcciare qualcosa di nuovo quindi il discorso è mettere a terra le informazioni base siano pratiche o teoriche perché ti permettono poi di di estendere e di essere più efficace in quello che verrà bene ancora un'altra allora dunque beh il focus diciamo finché non sia efficace nel senso che il focus è qualcosa su cui è più come dire più lontano perché c'è adesso che adesso non ci metto però arriva un punto in cui ti rendi conto che stai girando a vuoto e quindi ci sono due approcci o dici continui a farlo perché c'è una da una parte dici ti fa piacere passarci del tempo però anche se non sei efficace ma allora gli stai perdendo tempo e invece quando la soluzione potrebbe essere davvero stacco anche se siamo un po' controintuitivo ma in realtà sapendo un po' come lavoriamo a basso livello alle volte invece può essere davvero la soluzione giusta quella di staccare un attimo perché in background il cervello lavora lavora diciamo a me cioè il concetto è che il focus è volontario quindi dico ok se decido che una giornata imparo faccio una sessione di un'ora un'ora e mezza suono che ne so poi dopo basta nel senso e quindi poi sul diffuse lavora un po' a brilla sciolta sul discorso di teoria e pratica beh dipende ovviamente dal dal tipo di disciplina io diciamo che e dipende anche da quel dal tuo obiettivo io una delle lezioni più che ho imparato è quando appunto ho diciamo approcciato il mondo del machine learning che è stata una roba piuttosto non banale e sono partito super bottom up e proprio al fine mi sono reso conto che non sapevo nulla cioè sapevo sapevo le cose ma sotto non sapevo nulla e quindi mi sono reso conto che dovevo anche rovesciare probabilmente la cosa migliore è un'alternanza ma se ha senso in altri contesti magari no però in generale la teoria ti consente di avere più consapevolezza magari di sbagliare anche di sapere perché sbagli se invece non sai perché sbagli allora magari ti mancano proprio gli elementi teoric perché sto sbagliando oppure cosa sto facendo di diverso e quindi un po' di teoria aiuta sempre quindi però questa qua è una questione di esperienza non c'è diciamo un silver bullet dipende molto da quello che sta a imparare da quanto tempo hai da quali sono i tuoi obiettivi e questa è una cosa che va vista caso per caso sostanzialmente non c'è purtroppo una regola rispondiamo all'ultima che dici le altre indifferita sì beh allora è una cosa un po' strana però una delle cose la dico perché sinceramente non ho ancora messo in pratica sul discorso dell'epinefrina da quello che ho sentito se vai ad attivare il sistema quello dell'equilibrio a un po' a sconvolgerlo riesci a come dire ad attivare questa 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 epinefrina cioè diciamo ad attivare questa il fatto di avere uno spike di 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 e questo vorrebbe dire ad esempio non so fare verticali o caprioli cioè qualcosa che in qualche modo ti insomma magari non so non sei ancora del tutto sveglio no però ti metti a fare due cose che in qualche modo ti ti sconvolgono un po' il discorso del sistema dell'equilibrio e va ma è la botta di epinefrina e di aceticolina che ti permette appunto di essere più efficace però questa è una cosa che ovviamente poi è difficile quantificare perché poi all'irà che puoi avere anche una dire una tua percezione e magari ti autosuggestioni sul fatto faccio sta cosa qua sono più bravo a imparare però in generale questo può essere un esempio sicuramente la dopamina la dopamina quello è cioè il saper come dire utilizzare al proprio vantaggio il fatto di volere sempre avere una ricompensa è interessante però ovviamente il lato scuro è che ovviamente la dopamina è anche la sostanza che poi è legata alle forme di addiction cioè di diciamo di a droghe o anche a gioco d'azzardo eccetera quindi è un'arma a doppio taglio però se riesci a farlo in maniera virtuosa quindi dire ok che bello oggi ho imparato questa cosa qua domani ancora di più meglio no questa cosa poi il concetto di reward a livello neurochimico c'è la dopamina è importantissima c'è un bellissimo libro devo ancora leggere però credo che sia molto bello si chiama la molecola del molecule of more che parla proprio solo della dopamina e quindi credo che sia interessante penso che lo leggerò molto presto e la dopamina è sicuramente interessante se sfruttata bene può dare può darti veramente una marcia in più da questo punto di vista ecco dai le altre domande allora te le passo via email e poi mi risponderai e farò una bella newsletter volentierissimo stasera grazie a tutti grazie a te e noi ci sentiamo presto iscriviti al canale